Oggi è la prosecuzione di un percorso che abbiamo iniziato due anni fa con la cerimonia dei ricordi e delle scuse. Forse è il momento più alto di questo percorso, ma non finirà qui. Con Lignana Segre abbiamo un legame speciale. La nostra università è veramente molto legata a Lignana Segre. Io non dimenticherò mai le parole che lei spese in occasione di quella cerimonia. Oggi abbiamo avuto la testimonianza di un'altra donna eccezionale, Gotti Bauer, perché Lignana Segre stessa definisce il suo Virgilio. Due donne eccezionali e noi abbiamo il dovere di raccogliere il loro testimone per le nuove generazioni, per i giovani che verranno, che a loro volta dovranno poi continuare in questo percorso della memoria. Non dobbiamo mai dimenticare.